Arrivano i tablet per la polizia municipale. A partire dal prossimo mese di gennaio le multe per infrazioni al codice della strada, alle ordinanze e ai regolamenti comunali saranno registrate direttamente dagli agenti con tecnologia digitale. In questo modo si automatizza una parte del procedimento di notifica riducendo tempi e costi per il cittadino. Una multa 2.0, una vera e rivoluzione tecnologica degli strumenti che il Comune di Napoli ha per far valere le tante irregolarità dei cittadini napoletani. Sono molto soddisfatta, abbiamo investito delle risorse significative perché vogliamo rendere la città di Napoli insieme alla collaborazione dei napoletani più ordinata, più pulita, dove il rispetto delle regole sia un qualcosa per tutti. Il cittadino che riceve una multa potrà controllare sul sito web del Comune i dati della contravvenzione e in alcuni casi la foto dell'infrazione. Diminuiranno in questo modo le possibilità di errore e si ridurranno i contenziosi. Il sistema ci fa superare 20 anni di gap registrato sul piano dell'informatizzazione e dell'efficientamento di un servizio che è basato sul cartaceo, sulla volontà del funzionario e dell'operatore che in quel momento eleva la multa del servizio di notifica che è obesoleto. Oggi il sistema ci dà la possibilità di informatizzare tutto, di avere una piattaforma, di avere un GPS, di avere la possibilità di poter monitorare il sistema e di avere immediatamente interattivamente il dato della contravvenzione anche con fotografia all'interno del portale. Con questo sistema facciamo un'operazione di grande servizio sia alla collettività sia al cittadino ma anche e soprattutto anche all'amministrazione comunale che supera così una criticità che come tutte le altre amministrazioni regista sul tema delle sanzioni. L'informatizzazione della procedura consentirà anche di liberare risorse impegnate nel trattamento delle multe ed avere così più agenti in strada. Abbiamo un problema legato all'organico che ormai è assolutamente sottodimensionato, quindi riuscire a recuperare delle risorse che vengono destinate ad alcune linee di lavorazione all'interno per proiettarle sul territorio sicuramente è fondamentale. Basti pensare che all'attuale servizi finanziari dove vengono elaborate tutte le procedure contravvenzionali operano circa 140 operatori. Quindi recuperarne anche quota parte significa adarsi una mano a chi attualmente opera nelle attività di front line. Collaboriamo tutti affinché Napoli possa essere una città sempre più ordinata e dove il disordine, il modo di fare selvaggio possa lasciare spazio invece ad un modo di fare civile e consapevole.